Ciao, astronomici! Un telescopio con un'attività di focale è molto importante non solo per l'astrofotografia ma anche per le applicazioni speciali come le survey quick sky. E se hai anche bisogno di avere un grande diametro, un grande circolo di immagine corretto e un focus rear per lasciare connessi diversi accessori di immagini, come il filtrato motorizzato, il filtrato motorizzato, questa è la migliore soluzione, l'Officina Stellare RH300 con il focus low-profile 3.5". L'Officina Stellare Veloce RH300 è l'astrofotografo che offre un'attività di focale molto veloce, anche dei sensori grandi, come il GPX G-Sense 4040 che è usato nella camera SBAG ALUMA AC 4040. Oggi la distanza di veloce RH300 ha una distanza di focus di 157 mm dal filtrato M120x1.5 che è presente nella cellula reale, abbiamo creato un filtrato con il nostro esatto 3.5". LP, un focus profilo low-profile. Aggiungendo l'adaptor PL3600361 che ha solo una dottura 9 mm ottica, puoi collegare l'esatto 3.5". LP low-profile e ancora avrai 116 mm di focus extrazione dopo il focuser. Questo permette di installare anche delle immagini di immagini con molti accessori, o anche aggiungere il nostro rotatore di camera e filtrato. In questo caso avrai ancora avrai 19 mm di focus extrazione dopo il rotatore. L'Officina Stellare RX300 viene con le basse di Los Mendes, uno sotto il tubo e uno sotto. Questo permette di collegare facilmente anche l'Eagle con la fixazione con il PLUS CLAN e di prendere facilmente il controllo remoto del tuo telescopio e accessori di immagini. Per altri contenuti che ti aiutano a esplorare l'Universo come un pro, iscrivetevi al nostro canale e... Clear Skies!